Sei giorni di appuntamenti, proiezioni, masterclass e dibattito, ma anche contest dedicati ai videomaker. È stato tutto questo la quarta edizione di Visioni Verticali, la Kermess cinematografica Made in Potenza, che negli anni si è allargata al grande pubblico e ai grandi ospiti. Un'edizione speciale, quella del 2022, dedicata al tema dell'ambiente e del territorio, che per la prima volta è stata organizzata insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mezzogiorno, che si è svolta nella nuova sede del Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee, il Cesamo presso il Piccolo Teatro Principe di Piemonte. Abbiamo tracciato un bilancio di questa edizione con il direttore del Cesamo, Marcello Foti. Una settimana intensa di proiezioni, di incontri, di masterclass, di mostre e un calidoscopio di emozioni per tutti noi. Facciamo un bilancio e siamo estremamente positivi. Naturalmente la partecipazione del pubblico è stata importante, come è stata importante la partecipazione di artisti, registi, sceneggiatori, attori. Insomma, per essere un festival giovane siamo molto, molto soddisfatti. L'ultima giornata del festival è cominciata con la proiezione dei corti che hanno partecipato al contest, le cui premiazioni sono avvenute nella cerimonia conclusiva, ed è proseguita con le performance della cantautrice Annalisa Andreoli e con un omaggio a Pierpaolo Pasolini attraverso la proiezione del suo Vangelo secondo Matteo. Infatti, in occasione del centesimo anniversario della nascita del noto regista, che ricade quest'anno, Visioni Verticali gli ha dedicato una mostra curata dall'associazione Cineteca Lucana. Sì, allora, come Cineteca Lucana siamo contenti, soddisfatti di aver partecipato, siamo onorati di aver partecipato a questo fantastico progetto e abbiamo contribuito con questa mostra su Pasolini che ripercorre un po' con i manifesti e le fotografie tutti i suoi lavori, le sue opere.